La diplomazia popolare parla toscano e guarda all'Europa. Ieri e oggi due giorni per la pace a Rondine, il borgo aretino dove uno studentato internazionale insegna ai giovani dei paesi in conflitto a convivere con la pace. È un momento in cui cerchiamo di mettere in luce le radici che hanno ispirato Rondine e che sostengono Rondine. Sono radici della cultura toscana, non solo, ma certamente toscana, nei luoghi santi, nelle grandi figure di riferimento, delle culture diverse, culture laiche, cultura religiosa, che hanno consentito a Rondine di esprimersi in tutta anche la sua forza e la sua visibilità. Dalla toscana culla di civiltà e dal mosaico di culture degli studenti riparte il messaggio di pace che ha permesso a Rondine di cominciare ad abbattere le barriere storiche della diffidenza tra i popoli. Questa proiezione quindi che non mette confini ma fa di ciascuno di noi l'appartenente ad una famiglia che è una famiglia universale e questo spinge appunto l'esperienza cristiana a allargare lo sguardo a tutti i luoghi in cui la pace e la comunione tra i popoli hanno bisogno di essere sostenuti. E oggi un gruppo di europarlamentari sta discutendo al teatro tenda di Rondine un progetto ambizioso, far diventare i 14 punti per la pace nel Caucaso una risoluzione legislativa del Parlamento europeo e creare un comitato Rondine Europa sostenuto dagli stessi europarlamentari.